Ad Acosta sono 40 Mi porti benissimo però Porca miseria Io ho il mio pacchetto Viaggio tra Omega 3 Proteine in polvere, creatine Eccetera eccetera Sai a quanto arrivo in serata? A quanto arrivo? Io ti batto sicuro 205 Io sono arrivato a 190 Se faccio il festival tivo per 3 giorni Perdo tipo 6-7 chili 26 Sei già più grosso Sei già più grosso Sì, non la paragono è vostro però Ciao a tutti Benvenuti in questo nuovo episodio di Fit Cash, oggi abbiamo Il grandissimo Noah Insieme a me a presentare Il grande ospite della giornata Abbiamo Alessandro Martello Dei Marnik Ciao a tutti raga Famoso DJ internazionale Che abbiamo avuto il piacere di conoscere Quest'inverno a Dubai E oggi lo andiamo un po' ad intervistare Esattamente Come stai Ale? Com'è andato il viaggio? Il viaggio perché tu sei di Milano Ma so che questo weekend non eri a Milano O meglio Io sono calabrese Però vivo a Milano da 21 anni È una vita Sì sì Sono sceso giù per il matrimonio di mio fratello Che saluto Martex Martex ciao Avrei fatto la dieta? Sì come no Non so quanti di voi conoscono Un matrimonio calabrese medio Ok Praticamente Saranno stati sette giorni di alcol e cibo vario Ti sei allenato sicuramente? Zero Sette giorni? Sette Otto Incluso l'aldia al celibato Porca miseria È stato un bello hardcore Vabbè C'è da dire che non prendevo una settimana off dagli impegni lavorativi da Non lo so anni forse E quindi mi sono concesso sta settimana di puro Negli ultimi mesi hai viaggiato molto per lavoro? Troppo Sì? Sì Non mi lamento perché comunque è una benedizione viaggiare così tanto Però viaggio tantissimo per lavoro Allora per chi non ti conosce raccontaci un po' come è iniziata la tua carriera Lavorativa La carriera Marnik o la mia carriera in generale come Alessandro Martello? Sì la tua personale Guarda Allora da bambino avrò avuto otto anni e ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte Perché comunque ho avuto mio padre che mi ha sempre spinto verso gli strumenti Chitarra, batteria, pianoforte Ed all'altra è nata la passione un po' per tutto il mondo artistico, musicale Poi crescendo sai ho iniziato a suonare altri strumenti perché ho fatto i Boy Scout Cioè è un Boy Scout, un lupetto e quindi ho iniziato a suonare la chitarra Quando ero un teenager 15-16 anni ho iniziato anche a fare il DJ perché faceva figo fare il DJ Il mio padre era orgoglioso del fatto che hai passato dal pianoforte a... Dal DJ un po' meno Un po' meno Dal pianoforte alla chitarra e poi batteria in banda perché ho suonato pure in banda per tipo 10 anni Fino ai 18-19 Quanti DJ? Ad agosto sono 40 40? Mi porti benissimo però Porca miseria Sembro molto più vecchio io Porca miseria Me ne danno una decina di meno di solito Io te ne davo 30 Eh sì, quelli che mi danno Meno male dai Sarà la vita salutare Eh raccontaci un po', ti stai allenando? Allora, nell'ultima settimana no Perché mi sono lasciato andare volutamente Di solito mi alleno, faccio dieta, palestra e dieta Quindi cerco Cioè il stile di vita sano Nei limiti del possibile perché viaggiando tanto non è facile Nel senso che quando sono a Milano riesco ad avere la mia disciplina Il mio cibo pesato Quando sono in tour per il mondo è un po' più complicato E perché hai iniziato con la dieta, gli allenamenti? In che momento hai iniziato? Allora, seriamente nel 2018 ho iniziato a perdere peso Perché comunque arrivavo da dieci anni di nulla facenza totale Cioè io fino ai 30 anni, dai 20 ai 30 anni non ho fatto proprio attività fisica Ed ero diventato veramente un budino Com'eri? Eri molto grasso o il classico skinny fat? Il classico skinny fat Skinny fat Cioè non ero, non ho mai avuto problemi di obesità Perché comunque il mio massimo peso sarà stato intorno ai 90 chili Per un metro e 81 avrò avuto un 13-14 chili di sovrappeso Ok Ero in sovrappeso Però non avevo massa Quindi ero il classico Fino ai 30 anni? Fino ai 30 anni Infatti se ti faccio vedere una foto di quando avevo 30 anni Sembro più vecchio di ora Eh ci credo Sempre così Sì, è pazzesca sta roba E poi da lì ho iniziato a perdere peso Ho detto no, non mi piaccio Anche perché come Marnik stavamo già girando tanto Era già partita la carriera? Sì, perché Marnik l'abbiamo fondato assieme al mio socio Emanuele Che saluto, ciao Lele Nel 2014 E da lì poi abbiamo iniziato a girare Però è ovvio che con lo stile di vita che ha un DJ medio internazionale Non è poi facile Sentimi la necessità di essere in forma Per forza Per forza perché altrimenti Cioè non so come spiegare Anche per l'immagine penso Sì, anche se non è il motivo principale per cui ho poi iniziato L'immagine sicuramente Però il fatto proprio che Quando hai un po' di chili di troppo Anche sul palco li senti Perché ad oggi ti posso garantire che sono molto più atletico Anche nei movimenti Ma poi lo fai soprattutto per un Perché ti serve un'atleticità dato che fai il DJ? Perché salto un'ora e mezza Salti Salto come un pazzo Una volta mi hai raccontato che tu ti lanci anche dal palco Sì Ti sei fatto male alle ginocchia Mi hai raccontato un aneddoto Mi sa che la mia protusione è iniziata da lì Perché ho la protusione L5-S1 Non abbiamo mai capito se sono stati squat e stacchi O tutti i salti dalla Sì perché magari salgo sulla console e salto giù Ma a certe volte sono un metro e mezzo Un metro e ottanta di salto Porcavolo E lo fai più volte? E lo faccio spesso Scuola stiva occhi è questa Ok E quindi ho iniziato a perdere il peso nel 2018 Poi però non ho mai fatto palestra vera e propria Era un po' sai Non avevo nessuna guida Quindi non avevo né un nutrizionista né un personal trainer Non avevo amici che si allenassero Quindi non avevo una motivazione Ho perso peso Però il vero inizio secondo me è stato nel 2021 Quando uscivo da una relazione che ero diventato un po' tossica Abbastanza tossica E quant'anni avevi? Nel 2021 è tre anni fa Tre anni fa quindi 37 anni Ok Perché ad agosto sono 40 Ho iniziato perché stavo Cioè stavo parecchio giù Ho passato degli anni abbastanza tosti A livello personale E ho detto Guarda Sai che c'è Inizio a darmi una disciplina Con la palestra Che altro a livello mentale Per sfogarti un po' Sì Non ho iniziato per una questione estetica Assolutamente Era un periodo Forse il periodo più tosto della mia vita Appunto per motivazioni personali E ho detto Guarda Provo a sfogare tutta sta roba dentro la palestra E ha funzionato Pazzescamente Cioè Sai Lo senti dire dagli altri Non ci credi E come ti sentivi prima A livello mentale In passato Quando Cioè dai 20 ai 30 Eri un po' in sovrappeso Come hai detto tu Come ti sentivi? Sai Non ci facevo caso Il problema è che Io ho ancora i ricordi Di quando ho iniziato nel 2014 Che facevamo Con il mio socio Ai tempi Andavamo in tour Tutte e due Perché ad oggi Abbiamo diviso i ruoli Quindi io sono il tour guy Su quello che va in giro per il mondo E lui è Il ragazzo che sta in studio Produce la musica Eccetera eccetera Quindi giravamo tutti e due Però ai tempi Non ci facevo caso Ad oggi ti posso garantire Che Comunque La perdita di peso Perché fino a settimana scorsa Prima di andare in Calabria Ero arrivato a 77 kg Oggi Non voglio pesarmi Dopo una settimana Vedi comunque asciutto Sì Ad oggi Oggi ho deciso di non pesarmi Ci ripensiamo fra 3-4 giorni Che voglio sgonfiare un attimino 8 giorni di Calabria Hardcore E quindi La differenza L'ho notata è come Come concili Lo stile di vita da DJ Con appunto Uno stile di vita salutare Perché comunque Ti sa che i DJ sono un po' Borderline Questi questi Tra Tra alcol e altre cose Definisci il Eh sì È vero Il problema è Proprio quello Il fatto che comunque Noi lavoriamo Con la famosa aggregazione Di cui si parlava Nel covid No Quindi è sempre Festa Alcolici Poi chi vuole Droga Ma io non ne faccio uso Quindi Sfattiamo questo mito Sei natural Sfattiamo questo mito Che tutti i DJ si fanno Sono natural È una cosa che mi chiedevo Anche ultimamente Perché sono diventato Un grande appassionato Di pause e così via Ok Come fanno i DJ a farsi? Come fanno a mantenere la concentrazione? E quello che mi chiedo anch'io Perché io non fumo neanche la guida Quindi cioè Anche perché è impossibile Come fanno a performare? Secondo me diventa piuttosto O meglio Si innesca un circolo vizioso Perché magari all'inizio Se usi sostanze Che non so Come si definiscono Che comunque ti eccitano Ricreative Eccitanti Cioè cocaina E compagnia bella All'inizio può essere Un aiuto Per il problema del sonno Perché è uno dei lati negativi Del nostro mestiere Di chi Jetlag Jetlag Tu viaggi molto in aereo Ogni weekend Sì Dopo vi faccio vedere La mia applicazione Vi faccio vedere Le quantità di ore Che ho fatto Negli ultimi due anni Quante ore avrei fatto? Te lo dico subito Ce l'abbiamo qua Non so se si può mostrare Anche in camera 1762 ore In due anni Negli ultimi due anni 1.185.000 km Questo è Tutti per lavoro Tutti per lavoro Sì Questo è Non so Si vede qualcosa Praticamente Europa Asia Eccetera I posti più gettonati Dove vai A suonare? Allora noi Giriamo tantissimo In Europa E in Asia Facciamo qualcosina In America Ma non posso dire Che il nostro mercato Principale In questo momento Magari lo diverrà Lo diventerà E Sì Questi due Come mercati Sud America Abbiamo fatto Ancora zero Però abbiamo Tomorrowland Belgio Scusa Tomorrowland Brasile Perché Belgio Lo facciamo Appunto In Europa Il 27 di luglio E a ottobre Facciamo Brasile Che sarà Fighissimo Qual è il vostro stile Già di musica Bella tosta Come domanda Nel senso che comunque Direi stile Stile Marnik Però siamo Un incrocio Tra Elettronica Hard dance Hard techno Siamo un miscuglio Ma non ho mai sentito Le sue canzoni Siamo un miscuglio Di tante cose E poi tu hai lavorato Anche per tanti DJ Famosi Abbiamo collaborato Abbiamo fatto Diverse collaborazioni Tra cui appunto Stiva Occhi Che vi citavo Prima Che è un altro Steve Occhi Steve Occhi Steve Occhi Steve Occhi Steve Occhi È quello Sulla serie A rotelle Io le pronuncio E sono un problema Io ho un problema Viva di voi Ma il mio Steve Occhi Se lo vuoi dire In italiano Steve E gli Occhi Se lo vuoi dire In inglese Occhi Steve Occhi È quello Sulla serie A rotelle Poverino Grande fisico Non penso che fai DJ Buonanima tra l'altro Qual è la domanda Scusa Mi sono perso Era sul tuo Stile musicale No stavi parlando Di quanto Delle collaborazioni Che hai fatto Sì Con lui ne abbiamo fatti 4 o 5 Tra l'altro Devo contare Parecchie E siamo stati Tra l'altro Anche molto spesso In tour con lui E tra l'altro Lui è un altro Super fissatissimo Con fitness Lui non beve Cioè È passato anche lui Da bere tanto Tanti anni fa A non bere più Mangia solo sano Si droga Non si droga Zero Sei sicuro 100% ragazzi Vi posso garantire Facevamo il cicchettino Famosissimo Del caffè mambo Che è questo Ciringuito Che c'è ad Ibiza Dove tutti DJ Vanno a suonare Prima di andare All'ushuai Al pasha O all'amnesia Dove poi si esibiranno A lui portavano Il succo di mela Perché Tutti facevamo Il cicchettino Io ai tempi Ancora bevevo Tutti facevamo Il cicchettino alcolico Lui portavano Il succo di mela Perché sembrava rum Lui beveva il cicchettino Di mele Quindi si Lui è informissimo Lui si Lui è asciutto Molto secco Molto 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 secco Perché non gli interessa Lavorare sulla massa Quanti anni ha lui Più di te Lui è più grande di me Se non sbaglio Ha 4 anni più di me Quindi lui ora Ha 44-45 anni Comunque si tiene in forma Anche lui magari Sia per un discorso estetico Ma per ricollegarci Al discorso di prima E per il fatto che Comunque facciamo già una vita Che è abbastanza stressante Tra poche ore di sonno Viaggi interminabili Jet lag Cioè Raga Io vi posso descrivere Magari Il weekend mio più pazzo Può essere Giovedì A Tokyo Venerdì In Malesia Kuala Lumpur Sabato poi vai in Cina Domenica 6 a Bali Cioè Roba che suoni Incredibile Vai forse un oretto in aeroporto Ti dà una rinfrescata Prendi uno Barra due voli Arrivi Risuoni Dormi in aereo Se riesci a dormire E riesci ad essere preciso Con la dieta In tutto questo Quando sono così serrate Le date No Quando poi Però non è che vai al McDonald's No Gestisci In Asia poi mangi Generalmente un pelo Un filino meglio Perché comunque È tutto a base Di riso Basmati E eccetera eccetera Però anche lì È un attimo Che mangi fritto Su fritto E quindi lo fai Soprattutto per una questione Proprio fisica Perché se cominciassi Ad alcolizzarti A drogarti E a non tenerti in forma È la fine Comunque prima hai detto Che in quel periodo lì Bevevi sempre Poi dopo hai smesso Poi ho smesso Perché hai smesso? Non ho smesso totalmente Perché ti direi Una menzogna Cioè nel senso Se sono col promoter Dobbiamo fare il brindisi Lo faccio Però ho smesso Proprio di prendermi Le classiche ubriacature Da Da hangover Perché Perché non Perché inizia a pesarmi Poi non so se È per questo percorso La vecchia Non dimostrata Però almeno Visivamente Non so Se è per il percorso Che ho iniziato poi Nel 2021 Perché da lì poi Come vi stavo dicendo prima Ho iniziato a fare Proprio un percorso serio Di palestra E dieta Ho iniziato prima Con una nutrizionista E allo stesso tempo Con un mio amico Che si allenava ai tempi E mi ha fatto da Tra virgolette Personal trainer Ma non è un personal trainer Semplicemente un ragazzo Che si allenava da dieci anni Quindi sicuramente Ne sapeva molto più di me In termini di pesistiche E eccetera eccetera E poi due anni fa Ho iniziato con un Personal trainer E ho iniziato proprio A fare un percorso serio Con cibo pesato E allenamenti serrati In tour Si fa quel che si può Nel senso Io ne parlo spesso Col mio personal Non puoi essere Sette giorni su set Preciso Anche perché hai viaggi Magari di venti ore Dove O ti porti veramente Le schiscette In aereo Ma poi sei comunque Sbarellato Perché tu hai Sei sette ore Difuso Che sei in avanti Quindi c'è Il tuo corpo Ne li sente parecchio Spiegami una cosa Come hai fatto Dal nulla Poi a trovare La motivazione Di arrivare a pesarti Il cibo Andare dal personal Perché tante persone Magari Che stanno guardando L'episodio Vorrebbero Ma Non hanno Diciamo Quella Motivazione E costanza Nell'iniziare un percorso Come hai fatto tu Cos'è che Quel giorno ha detto Che inizio a pesarmi Il cibo Inizio a fare le cose In una maniera Non da Amatore Ma da uno Un pochino più Preciso Lo ricollegherei Al 2021 Quando ti dicevo Che ho avuto Quel periodo Di down E lì Ho detto O inizio a prendermi cura Della mia mente Attraverso la palestra Oppure qua Ci rimango sotto Perché non dormivo Non stavo proprio bene Ogni tanto devi toccare il fondo Prima di risalire A livello mentale Non stavo proprio al top Diciamo E Mi ha aiutato un sacco Perché la disciplina Che mi ha dato La palestra Poi Sono riuscito ad applicarla Anche nella vita Nel business Nel lavoro Sì Parlando appunto di business Qual è stato l'anno In cui hai Decisamente svoltato A livello Diciamo Business Economico E così via Beh sicuramente Quando abbiamo fondato I Marnic Nel 2014 Già il primo anno Sì Abbiamo fatto un bel balzo Perché I Marnic Il nostro progetto Noi siamo un duo Ok In quell'anno Sì Siamo passati Da due perfetti Sconosciuti Comunque A due ragazzi italiani Che nel mercato Erano conosciuti Non userei la parola Famoso Perché nessuno di noi È famoso E Cos'è che aveva fatto Appunto fare questa svolta Qual è stato C'è stato un episodio particolare Un colpo di fortuna La discografia La discografia Le canzoni Che producevamo ai tempi Perché comunque Era un momento storico Dove la Big Room Che era il genere Che facevamo noi Andava tantissimo E ai tempi Lo è tuttora Lo è tuttora in verità A livello mondiale A livello mondiale Però Ai tempi era proprio Mega hype Ci supportò Suonando Un disco nostro Il giorno dopo Io mi sveglio Trovo su Facebook Tipo 600 700 richieste D'amicizia Con un solo passaggio Suo E stessa roba Il mio socio Quindi da lì abbiamo capito Ok qualcosa è successo E da lì È iniziato Tutto Come business E come carriera Però ancora Ai tempi Non mi curavo Nel senso che comunque Mi ricordo benissimo Nel 2014 Pesavo 88-90 kg Cioè Andavo in giro Comunque con questa bella zavorra E come vivevi In quel periodo lì Che prima mi hai raccontato Che non Cioè Eri spostato dalla Calabria A Milano Sì È stato difficile Quando sei arrivato a Milano Magari da sole In verità Mi sono spostato nel 2003 Perché Io appunto Sono nato Alla Mezzeterme In Calabria Provincia di Catanzaro E nel 2003 Sono venuto a Milano A vivere E Da lì è stata lunga Nel senso che Prima di fondare Marni Comunque Il mio progetto Solo Alex Martello Ok E Avevo iniziato Comunque a fare Le mie prime robe Lavoravo Comunque Anche come DJ Ah facevi anche altro Sì Sì Sono stato Perché non riuscivi a mantenerti All'inizio Facendo solo Allora Bene o male Ho sempre fatto questo In grazia di Dio Perché comunque Anche se lavoravo A parte Forse i primissimi anni Che sono arrivato a Milano Che ho lavorato In un internet point Dove ho conosciuto Poi tra l'altro Ruzza Ciao Lorenzo Il mio carissimo amico Ed ex coinquilino Che viveva con te Ma vi raccontate Sì Siamo stati coinquilini Forse tipo 7, 8, 10 anni Non lo so neanche se Tantissimo Due scappati di casa Eravamo Assurdo Incredibile Sì E lì forse Avevo fatto qualche altro Lavoretto Per il resto Poi ho sempre lavorato Nell'ambito musicale Perché Fin da quando 15 anni Comunque mi esibisco Come DJ Quindi È sempre una roba Che ho avuto E che ho mantenuto È ovvio che Dal 2014 in poi Abbiamo raggiunto Un livello internazionale Assieme al mio socio Che non è equiparabile A quello che avevamo Prima io O lui in solo Perché anche lui Unione fa la forza Sì Anche lui aveva un progetto In solo E Quando ci siamo messi insieme Abbiamo fatto la differenza E da lì E poi è stato un crescendo Però non ero Ancora Fissato Né con dieta Né con palestra Magari Ora che mi dici Chiari in casa Insieme a Ruzza Lui si stava già allenando In quel periodo No Nessuno dei due Quanti ne avevate Ai tempi? Allora Parliamo del 2004 Quindi avevo 20 anni E lui Qualcosina di più Perché è 4-5 anni Più grande di me Pazzo Di ragazzini Erano ragazzini 20 anni fa Cioè 20 anni 20 anni fa 20 anni Ed è da 20 anni Che ci conosciamo Tantissimo No Non facevamo né palestra Né nulla O meglio Io mi ricordo Che avevano comprato Io avevo comprato Una Quelle multipunk Proprio scrausissime Di media shopping Tipo eh La roba che avevo pagato Tipo 180 euro Usata Da non so chi Qualcosina facevamo Però sai Avevi una panca Per il chest E lo stile di vita Com'era in quel periodo lì? A 20 anni Cibo Cibo A casissimo Ma infatti L'altro giorno Ha pubblicato un video nostro Di quel periodo là Io pesavo Io pesavo Forse 87 88 chili E lui altrettanti Cioè Eravamo Irriconoscibili Sembravamo più vecchi Lì che oggi Che assurda sta roba Perché fa tanto Certo Certo Quando fai quel click Poi Col mindset Cambia un po' tutto Cavolo Una domanda Che mi sono sempre chiesto Ricordo di DJ Io come ti ho detto Sono diventato da poco Super appassionato Di tutto il mondo Di Pau E uno dei miei DJ preferiti È Black Coffee Ad esempio Non so se lo conosci Certo È istituzione Io immagino Ogni volta Tutti i concerti Dove sono andato Ha sempre riempito Per tutto Quindi immagino Che sia strapagato Sì È grosso Lui come DJ Ma Estando sempre così in giro Finisci proprio A non goderti Neanche i soldi Che guadagni E così via Quando sei tutti I giorni in giro Ma secondo me Nessuno di questi DJ Alla fine Lo fa per i soldi Lo fa per i soldi Perché io personalmente Posso dirti che La nostra più grande fortuna È stata trasformare Una passione in lavoro Perché prima Quando mi chiedevi Hai fatto altri lavori Sì Ma da ragazzino 19-20 anni Quando ero appena arrivato a Milano Ho lavorato in un internet Poi ho lavorato sempre Nell'ambito musicale Lavorato anche in uno strip club Mi hai raccontato Sì Ma eri tu Qui a Milano Eri tu protagonista Non facevo io lo strip Chiariamo Io ero sempre il DJ Non eri protagonista Quindi comunque Lavoravo in uno strip club Ma comunque ero il DJ Ok Sì Io ho lavorato come guardia di sicurezza lì Quindi ho visto anche io di tutto Eh vedi Il focca locca di Milano Che ora ha cambiato anche il nome Ho fatto quattro anni lì dentro Quanti anni avevi in quel periodo? È stato Quattro anni prima di Marnica Quindi dal 2010 al 2014 Perché Poi ho smesso proprio perché Con Marnica abbiamo iniziato a lavorare Non aveva più senso Eppure lì Stile di vita Bevevo quasi tutte le sere Non mangiavo bene A livello mentale Questo stile di vita Ma non te ne rendi conto Sul momento Non ci pensi Cioè lo realizzi dopo Quando inizi comunque A darti una disciplina Sia sul cibo Che sulla palestra Certo Perché sul momento Va tutto bene Cioè È figo Bere tutte le sere Quegli amici Non salutare Ma è figo Certo Fa figo Certo E tipo Oggi questo ritmo Che hai di vita Diciamo molto Che viaggi È pesante Hai detto prima Il tuo weekend impegnativo Pensi di riuscire A mantenerlo Per tanti altri anni O pensi che A breve Sarai distrutto Devi fermarti No Ma guarda La mia fortuna È che Come dicevo prima Essendo una passione Anche il viaggiare È una passione Ti pesa Perché il viaggio in sé È pesante Viaggiare è bellissimo Perché Hai la possibilità Di conoscere nuove culture Nuova gente Visitare posti Che magari Non avevi neanche mai Sentito nominare In vita tua Ora sono dieci anni Che come Marni Di città Nel mondo Ne abbiamo visitate Infatti Voglio preparare Una mappa gigante Di tutte le città Nel mondo In cui sono stato Perché secondo me Sono tantissime È pesante Il viaggio Appunto Per il fatto Che comunque Magari A volte viaggi Per 20 24 26 30 ore Di viaggio Ci vuole una certa Mentalità Per fare Però capisci Che almeno Io la vedo così Anche quando Lavoro tanto Durante la settimana Magari mi alleno A Milano Faccio Perché di base Sono sempre a Milano A meno che Non facciamo Dei tour lunghi In Asia Dove magari Sto via 4-5 settimane Però nell'infrasettimanale Poi ho Dei day off Dove cerco Comunque Di tenere botta Di tenere tiro Però nella peggiore Dell'ipotesi La vedo sempre Un passo avanti E mezzo indietro Se proprio Non riesco A essere preciso Su tutto quello Che voglio fare E quello che vorrei mangiare E gli allenamenti Che vorrei fare Almeno quello Quanti allenamenti Riesci a fare Quando sei in giro Allora Di base ne faccio 4-5 Quando sono in giro Dipende Sono tanti Dipende Dalla schedule Del tour Perché è ovvio Che se ho fatto 30 ore di viaggio Sarei uno scemo E un falso A dirti Che la prima cosa Che faccio È arrivare in hotel E andare in palestra È let È let Però Nel nostro rider C'è una clausola Della palestra Deve essere presente Nell'hotel Che ci mettono a disposizione Ah sì Grande È una Barrette Barrette proteiche Coca-Cola Red Bull Tutto sugar free Sì sì È nel contratto Io quando vado in vacanza Non prenoto Se nel posto Che vado in vacanza Vicino Non c'è una palestra Vedi Io in hotel Ma perché questa È una mia Mentalità Cioè Una mia fissazione Ci sta Io voglio allenarmi Capisco Voglio allenarmi Magari non mi alleno 5 volte a settimana Mi alleno 3 volte Ma anche quando Sei in giro Se la palestra è un piacere Non è un peso Allenarti Esatto Ti piace È bello Deve diventare un peso O un'ossessione Secondo me Però le prime I primi mesi Che ti allenavi Ti piaceva come ti piace adesso O hai iniziato a piacerti Col tempo Io personalmente I primi 3 mesi Odiavo andare in palestra E andavo Diciamo Perché dovevo Perché sapevo Che arrivato al terzo mese Il mio fisico sarebbe stato migliore Quindi mi ero imposto Quindi tu l'hai fatto Per un aspetto estetico Allora Io sì Perché venivo bullizzato Da ragazzino Anch'io E quindi Dato che ero stato bullizzato Nella mia testa Era scattata Quella cosa Se divento Più muscoloso Più grosso Avevo 15 anni Ero piccolo Sicuramente i bulli Mi prendono più sul serio E stanno alla larga Quindi io Nella mia testa Ho detto I primi 3 mesi Devo stringere i denti E andare Anche se non ho voglia Perché so che Al terzo mese Ho visto dei ragazzi Che si allenavano da 3 mesi Avevano già un buon fisichetto Dicevo Anche io posso essere come loro Quindi i primi 3 mesi L'obiettivo era quello Avere almeno il fisichetto Di quel ragazzo Lì che conoscevo Che lui si allenava Da 3 mesi E poi dopo Avevo un buon fisico Dopo 3 mesi C'è un buon fisico Migliore E allora poi Da lì Ho detto Sai che c'è Continuo Perché non lo voglio perdere Questo fisico Che ho raggiunto Quindi volevo sapere Se anche a te Era scattata una roba simile Con una motivazione diversa Come ti dicevo prima Però più o meno Sì Iguale Nel senso che comunque Io ho iniziato Perché volevo star meglio Mentalmente Di testa E ha funzionato Meglio stavo Meglio mi sentivo E poi meglio iniziavo Anche a vedermi E quindi era tutto Un circolo virtuoso Non più vizioso Certo E da lì ho detto E tu invece No per me In realtà La palestra No Per me è stato l'opposto Io vorrei ritornare A vedere la palestra Come la vedevo anni fa Cioè i primi allenamenti Per me I primi anni Anche i primi mesi Era belli Porca miseria Sì invece Io non Mi ricordo che Mi tremavano le gambe A scuola Perché continuavo a guardare L'orologio Perché quando andavo in palestra Sì mi piaceva un sacco Contrario Mi piaceva un sacco Adesso devo trascinarmi A volte Però è stato Per me è stato così Il core Perché io all'inizio Non riuscivo ad andare in palestra Perché non potevo permettermi 30 euro di abbonamento In McFit Quindi andavo a correre E correre lì L'odiavo Poi dopo un po' È iniziato a piacermi Perché quando è iniziato A diventare bravo 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 a correre Perché conta che All'inizio sono partito Camminando veloce Ah perché Tu pesavi tanto Tanto pesavi 150 chili Cosa Avevo 17 anni Ecco perché devi essere bravo Non avevo capito Dicevo ma come è bravo a correre Poi facevo Ho iniziato con Camminata Veloce E ogni 5 minuti Facevo tipo uno scatto Di un minuto Ma scatto Tra virgolette Poi riuscivo a correre I primi 5 minuti I primi 10 minuti 15-20 Ho arrivato a un certo punto Dove riuscivo a correre Tipo un'ora e mezza Continua Ok Lì Quindi cazzo Quello di cui parlavo io Facevo sempre lo stesso giro E quindi guardavo Dopo un po' In quanto ci metteva a fare il giro Bello Però bello Bellissimo È quello di cui parlavo io prima Però io parlavo di 13-14 chili di differenza Io l'ho persi L'ho persi quasi 50 E poi dopo l'hai ripresi in muscoli? Dopo l'ho persi Sono passato 90 chili Poi l'ho ripresi Perché l'ho persi male Poi l'ho ripresi Poi ripresi Poi ho cominciato con la palestra Ho fatto per un po' di anni Continuo E questo è l'errore dei principianti Che non sanno fare le diate Le fanno troppo drastiche Perdono tutto Ma dopo riprendono tutto con facilità Quindi ci vuole sempre una guida Ah quello sì Io per anni ho fatto effetto io Perché facevo diete Senza senso Immagino Senza senso Un sacco di mode Infatti consiglio a tutti i professionisti Rivolgetevi dei professionisti Giusto Non mi stanno pagando per dire ciò Ma tutti comunque all'inizio Abbiamo avuto Qualcuno che ci ha seguito Per arrivare a un certo livello Perché se no entri in un meccanismo Come ha detto lui Io entravo nello stesso meccanismo Opposto Io sono partito chiaro Anoressico Quasi Magrissimo Facevo la fase di massa Dove mangiavo come uno sfondato Tutto l'inverno Sporco o pulito A 15-16 anni Di tutto Di tutto Mangiavo anche troppe proteine Arrivavo a primavera Che ero più grosso Ma ero anche più grasso Allora dovevo andare in spiaggia E non volevo andare più grasso Ero più muscoloso Ma anche più grasso Quindi facevo la dieta drastica Perdevo tutto Perdevo La massa grassa Ma riperdevo tutta la massa muscolare Che ho costruito In otto mesi d'inverno Fisarmonica Quindi era un effetto yo-yo Diverso dal suo Ma comunque ce l'avevo anch'io Quindi ritornavo secco d'estate E poi d'inverno Ritornavo grosso E grasso Capito? Poi dopo Dopo due o tre anni Che ho sbattuto la testa A far così Ho capito che l'alimentazione L'ho fatta in un determinato modo Che quando devi perdere peso Con la dieta Non devi bruciarti La massa muscolare Ma devi perdere solo La massa grassa E viceversa Quando sali Devi cercare di crescere Il più pulito possibile Però queste sono cose che Magari ai tempi mia Che sono diversi dai tempi suoi Che lui Lui ha 24 anni Io ne ho 31 Non c'era internet come ora Io leggevo le riviste Di bodybuilding Che compravo in edicola A 15 anni Da quanti anni Te l'hai quindi da 15 anni? Io me ne ero da metà Della mia vita Sì Wow Quindi 15 anni Io non lo so Ne ho 31 Quindi Metà e un anno Vabbè però se conti gli anni Non contabili Che saranno i primi 8-10 Ti alleni da sempre Sì Diciamo Sì Diciamo di sì Cavolo Cavolo Insomma Tutti abbiamo la nostra storia Diversa Ma alla fine Di successo Che ci porta A un obiettivo comune Disciplina È la roba Che veramente ha cambiato Un po' Perché io sono sempre stato Un procrastinatore seriale Che è Bruguale Cioè è una brutta bestia Da domare Però almeno Essene consapevoli Secondo me è già Metà strada Verso la guarigione Sì È il fatto che Però Né con la palestra Né con la dieta Puoi procrastinare Se vuoi avere i risultati Immagino Esatto Quindi se poi Devi essere costante Puoi procrastinare Puoi farlo Fino a una certa No Tanto poi ne paghi le conseguenze Io ogni tanto Ancora adesso Quando vuoi di procrastinare Quando dico Vabbè faccio domani Poi mi ricordo che Vabbè È un giorno in più Che ci metterò ad arrivare Al mio obiettivo Sì E quello Poi considera Io ho fatto ora Le gare Per 12 anni Ora da questo Facevi gare proprio Io ho fatto 8 anni Le gare di Forza Di Strongman Sollevamento Powerlift Esatto Una specie Ok Quindi di prestazione Poi negli ultimi anni Dal 2019 Fino al 2023 Ho fatto bodybuilding Una questione Diciamo estetica Prima era la prestazione L'obiettivo I primi 8 anni E dopo estetica Ora che diciamo Mi sono fermato Con le gare da un anno Perché tutto il mio focus È sul lavoro Ci sta Migliorare l'azienda La gestione Dei clienti Del coaching online Eccetera Ho rallentato Perché ho Tanto più focus Sul lavoro E mi sto allenando 3 volte a settimana Se poi riesco Faccio 4 allenamenti A settimana Se riesco Riesco comunque Ad avere un buon fisico E Vado a cena fuori Anche 4 volte a settimana Ok La maggior parte delle volte Per lavoro Perché magari Ho C'è per network Lavorativo Anche ora sono a Milano In questi giorni Io vivo a Dubai La mia famiglia Sta in Toscana Quindi Mi capita di uscire la sera Sono qua a Milano Per lavoro Ma comunque Incontro persone Come magari stasera Verrò a cena avanti Però comunque Cerco sempre Di gestirmi Anche se sono In giro Ma sì Ma è tipo una maratona Alla fine della fiera Nel senso che Comunque È sul lungo periodo È sul lungo percorso Non è una gara sprint Esatto Quindi secondo me Le persone devono capire Che nonostante Stili di vita lavorativo Come puoi aver tu Che è molto impegnativo Stressante Se vuoi Puoi Sì perché La roba è che io Allora Quando sono a Milano Perché magari Ho date europee Che sono più facili Da gestire Perché la data classica Data europea Se devo andare Questo sabato A Parigi Io parto sabato Domenica Sono di nuovo in Italia Quindi io da lunedì Al venerdì Riesco ad avere La mia routine La mia disciplina Tra virgolette Quando devo viaggiare Oltre oceano Quindi con l'intercontinentale La roba diventa Molto più complicata Anche se Spesso Magari quanti Lo shaker di proteine Di volo Io ho il mio pacchetto Viaggio Tra omega 3 Sì sì Polvere Proteine in polvere Creatine Eccetera eccetera Certo Chi viaggia sempre con me Certo Però comunque Anche quando andiamo in tour Diverse settimane Perché ho fatto tour Magari di 4 5-6 settimane In Asia Non è sempre così Magari nel weekend Hai quelle 2-3 date Che sono 2-3 giornate Proprio di fuoco Poi giornate off Dove riesci Comunque tra virgolette Ad avere la tua routine Giusto La figata è stata Che comunque il fatto Ricollegandomi A quello che dicevo prima Da procrastinatore seriale Che ero Con la palestra E la dieta Ho cominciato ad avere Questa disciplina mentale Che mi ha fatto stare meglio Mentalmente Mi ha fatto stare meglio Fisicamente Quindi mi vedevo pure meglio Più bello Certo E la inizio ad applicare Anche sul lavoro Basta Secondo me L'hai fatta Cioè E quello Quello Secondo me Il click Mentale Poi Certo Quindi è assurdo Come da Sollevare pesi Alla fine Poi riesci Comunque anche A essere più lucido Lavorare meglio Essere più motivato Eccetera Sembrano stronzate No Sai Tutti sti motivatori Certo Certo La verità Però È tutto vero Poi Alla fine Certo Perché io da quando ho iniziato Questo percorso Comunque in maniera Abbastanza seria Poi seria Tra virgolette Perché paragonata a voi Ragazzi Cioè per me è una passione Certo Io non faccio le gare Cioè non devo fare gare Tu hai fatto gare Quindi Vedendo anche Il lavoro del mio perso Non so cosa vuol dire Essere in gara Che secondo me Non è vita ragazzi Però vabbè Quello affare vostro È una scelta Cioè è veramente un lavoro È come quello che decide Di diventare vegano È una scelta Tostissimo Non te lo impone nessuno È tostissimo Però È cambiato tanto È cambiato tanto Da quando ho iniziato A darmi una regolata Su tante cose Bene Bene Dal punto di vista Dieta E palestra Ti volevo chiedere A livello familiare E ti hanno supporto Cioè Questo discorso lavorativo Quando tu ti sei Spostato a Milano Comunque la tua famiglia Non la vedi spesso No Tutti i miei familiari Sono giù Cioè Questa cosa A te ti pesa Di essere lontano Dalla famiglia Per questioni lavorative Sì Sì Sai Vorrei non essere Melodrammatico Perché magari Poi dicono Il classico Terrone Io posso dirlo Perché lo sono Che Arrivano gli haters Non si dice Terrone Io sono terrone Posso dirlo Però Sì È un po' pesante Ti manca un po' Sai Penso spesso Che comunque La vita è fatta Di compromessi E scelte Quindi Per seguire Delle ambizioni Un sogno Eccetera eccetera Ho dovuto sacrificare Altre cose Il tempo indietro Non torna Perché tutto il tempo Che ho perso Comunque con la mia famiglia Non me lo ridà nessuno Sono stato Stasettimana Sono stato D'addio Con tutta la mia famiglia Che sei stato Al matrimonio Del fratello I miei li vedo Che comunque Stanno invecchiando È una roba Che ogni giorno Ci penso Sì Però Comunque Sono nato In Calabria E penso Che se fossi rimasto lì Non avrei realizzato Nulla di tutto Quello che sto facendo Ad oggi E a livello di Famiglia Appunto Tuo personal partner Quasi via È difficile trovare Qualcuno che supporti Il tuo stile di vita Partner Compagna Proprio Non è facile Poi la devi trovare Anche nel settore Fitness I cuscini In pol Perché non sono disposte Tutte le donne A stare con uno Che pesa la roba Che quello Che Tante donne Vanno in crisi Ne parlavo Col mio personal Di sta roba Ragazzi Ho fatto un cut Abbastanza pesante Fino a poco Prima di scendere In Calabria E quindi arrivavo E quindi arrivavo al weekend Affamatissimo Al passo libero E io Raccontavo appunto Al mio person E gli dicevo Io avrei vergogna Ad uscire con una tipa Perché sono ancora single Ad oggi E poi rispondo Alla tua domanda E faccio Io avrei vergogna Ad uscirci Perché ad oggi Quando arrivo al passo libero Sono talmente affamato Che aspiro il cibo Ok stavolta non va bene Ci vuole una dieta Un po' più bilanciata Aspiro il cibo In tre secondi Non devi arrivare Distrutto il weekend Devi arrivare Io lo so Vabbè infatti ora Mi darò Devi farti aumentare Un po' le calorie Sì ho fatto un po' Un taglio di carbo Comunque no Non è facile Se si vuole Si può Io penso sempre questo Però Sicuramente non è facile Perché comunque Non è una vita Normale È una vita abbastanza Sopra le righe Sei sempre in giro Per il mondo Quindi si trova una ragazza Che viene con te Ma neanche Perché alla fine Non puoi chiedere A una persona Che abbia Che magari ha una sua vita Ha la sua personalità Le sue cose Di sacrificare tutto Sicuramente bisogna trovare Una persona Con un mindset Abbastanza open Perché non è facile Però E comunque Penso che Tutte le ragazze Comunque vedono anche Il lavoro di DJ Borderline Sì Hanno paura Che tu parla con le altre Donnaiolo E drogato Cioè questa è proprio L'etichetta appena Donnaiolo Drogato Che poi non è Cioè non è un bel curriculum Cioè fa figo Fa il DJ Però Dai un po' la zappa Sui piedi Da solo in una relazione Seria Questo è Ci sta Perché comunque Alla fine sei sempre A contatto con un sacco Di persone E quindi anche Di tipe Esatto Sicuramente Ti diverti Ti diverti Se vuoi Se vuoi Ti diverti Vabbè io sono single Laga Se vuoi ti diverti Però fa una relazione seria È un po' più difficile Guarda ero fidanzato Ora sono single Quindi sono single Vedi sicuramente Anche Anche La tua fisicità attuale Rispetto a quella Vecchia Sì Magari ti dà Maggiore sicurezza Non lo so Vabbè non penso Che tu hai questi problemi A volte lo riscontro Io Mi reputo una persona timida Ma non ci crede nessuno Perché poi dicono Sare sul palco Anche io sono timido Anche se non siamo Assolutamente timidi Davanti a tutta questa gente Siamo tutti timidi Parli al microfono Animi Cioè Fai ballare migliaia di persone Io penso di essere timido Soprattutto quando Mi devo approcciare Pure a una ragazza Sì 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 Quindi Secondo me Tipo Almeno per quanto riguarda me E lui che lo conosco Abbastanza bene Il fatto anche di allenarsi E cambiare tanto Il nostro corpo Come posso aver fatto io Che da 65 kg Sono arrivato a 105 Tutti di massa E lui che comunque È enorme È anche un po' Un fatto È anche un po' Un fatto di Mascherare La propria timidezza Attraverso Una maschera Che costruisci Sai che per me Invece è l'opposto È l'opposto Io prima Non ero timido Sei più timidora Ero la persona più estroversa del mondo Sei più timidora Sono molto più Negli ultimi due anni Mi è successa una roba Tipo Sono diventato stra introverso Non so perché Ma è perché Ho un'attenzione addosso Che è troppa Cioè quando Quando cammino per stare da qua in Italia Quando sono andato in Svizzera Ti guardano tutti La maniera in cui la gente mi guarda Perché sono Io comunque sono quasi due metri Peso tanto Sono grosso Non sono un presti Sei grosso Non sono un bodybuilder Un Olimpian Ma sei impressivo È perché sono alto Tu sei molto impressivo In mezzo a mille persone a tutti si vede Esatto Che sei un pezzo così più alto degli altri Non sei dello stesso colore degli altri E sei con delle braccia come le cosce miele Sono andato in Svizzera Sono andato in Svizzera Con un mio amico Che fa l'Olimpia Ok C'è un mister Olimpia Cioè guardavano tutti me Wow E tutta sta attenzione addosso Secondo me Mi ha reso stra introverso Perché mi imbarazzo Perché dovunque vado Ho gli occhi attorno Quando cammino con la mia ragazza Per stare da che lei è bassa Ci fissano tutti E tutta sta Sti occhi addosso Ci sono due opzioni O divento tipo un pezzo di merda Tipo di quella gente che cazzo guardi Sì ok Oppure Oppure mi imbarazzo un sacco Io mi imbarazzo Cerco di mascherarlo Però sta roba Negli anni Secondo me è cresciuta così tanto Che ora sono diventato stra Sono sempre in imbarazzo io Sempre È interessante Perché la gente mi guarda Come se fossi un alieno a volte Ma quando pesavi 150 kg di grasso Ero stra extroverso Ero la persona più divertente del mondo Non eri Io mi metto a ballare per strada Ero fuori testa Ma è anche il fatto Che ora è molto più semplice Cambia da persona per strada Cambia da persona È una cosa che mi è cambiata Proprio negli ultimi Due anni Cioè anche quando Quando mi sono trasferito a Dubai Inizialmente Due anni Quattro anni fa Quando sono andata la prima volta Non ero così Negli ultimi due anni Sono diventato stra introverso Non so perché Quindi se ti chiedono la foto O ti imbarazzi Allora Mi imbarazzo un po' Però cerco di mascherarlo Sono sempre in imbarazzo Mi vengono dei tic nervosi a me Cioè io ho dei tic nervosi Che spero che nessuno Se ne accorga E non dirò mai Quali che sono Però mi vengono dei tic nervosi Perché io sono in imbarazzo Però cerco di non farlo vedere Con le ragazze Invece no Dipende Se la ragazza mi piace un sacco Allora sì Se no no Però in generale Quando sono tipo Tipo a Rimini Wellness Io ero Strami Però cercavo di non farlo vedere Lo guardavano tutti C'erano le donne di 50 anni Che lo fissavano Così C'ero lì con lui Tutti con gli occhi addosso E comunque di gente grossa Fisicamente Ce ne sta tanta Alla fiera del fitness Ma lui era quello più impressivo Sì è fuori di testo Impressivo Quindi in certi lati Il fisico Può essere positivo In altri Negativo Negativo tra virgolette Se potessi Io vorrei fare Una settimana Nella giornata Di un ragazzo normale Alto 1,70 x 70 kg E vorrei vedere Cosa sente a camminare Per strada E nessuno ti guarda Io cammino per strada E vedo la gente Delle macchine Che fa così Indicano Guarda 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 Ti farei provare Quello che si prova A vivere nel mio corpo Perché il tuo è molto estremo Il tuo fisico È troppo sopra la mia Cioè È veramente Veramente troppo Io vorrei fare Una settimana Nel corpo di una persona normale Vedere quello che si sente Perché negli ultimi Due anni A Dubai un po' meno A Dubai un po' meno Eccetto Quando vado tipo Al Global Village Al Dubai Mall Però meno Tipo anche in Venus Così via Quando vado in palestra Qua in Italia Cioè mi alleno E c'è tutta la palestra Che mi fissa così Infatti io cammino così Per la palestra Cerco di non guardare Nessuno Gli occhiali da solo Guarda cappellino Vedi Questo è per mascherare La timidezza La faccia Il trucco è sembrare Quasi sempre arrabbiati Così nessuno Ti viene arro Io sembro quasi arrabbiato Poi mi parli E sono tipo Orso Peluche Sì Bellissimo Voglio troppo Allenarmi con te Il problema di allenarsi Con lui Sai qual è? Che se ti alterni Che ne so In panca Col bilanciere Lui ha 200 chili E tu magari ne hai 70 Devi scaricare E caricare Tra una serie Io posso dirlo A starvi di fianco Mi sta venendo Un po' di depressione In verità Cioè Parliamo di palestra Fitness Comunque io A livello mentale Oggi che sono 105 chili Mi sento come quando Pesavo 75 Ok Cioè che a 75 Dicevo Devo migliorare A 80 dicevo Devo migliorare Oggi sono 105 Quindi non cambia mai Devo migliorare Ci sta Non mi vedo ancora Come vorrei Ma non perché ambisco S 130 chili Ma perché Io devo migliorare Perché non sono mai contento Ma un po' come in tutte le cose Anche a livello lavorativo Quando ti dai un obiettivo Non sei mai arrivato Lo raggiungi E dopo te ne dai un altro Un altro Sì È quello che ci tiene vivo Alla fine Sì Sì Arrivato all'obiettivo C'è uno nuovo Arrivi a quello Un altro Esatto Sì Vero Ora Il mio focus Si è spostato Un po' più sul lavoro Sto tra virgolette Trascurando meno Il mio lato Atleta Ma comunque Mi alleno Faccio la dieta Sto preciso Prima mi allenavo Per le gare 5-6 volte a settimana Ora mi alleno 3 Le gare Le gare sono pesanti Ragazzi Non le conosco Sulla mia Personalmente Perché non ne ho mai fatta una Non avrei Faccio ridere Magari in futuro Una gare No È inconciliabile con il mio stile di vita Prima di tutto Perché Per far le gare Secondo me Devi dormire Uno devi dormire Io ci sono giornate che non dormo E il muscolo Cioè Ciao E due Faccio il possibile Cerco di stare bene Con la mente E col corpo Che è quello poi Quello che conta Certo Voi siete enormi Io prima Volevo gareggiare per anni Adesso non mi interessa più Ma hai mai fatto gare? No Perché lui è giovane No ma non Guarda se domani Mi ritornerà di nuovo Voglia Sì ma Secondo me Sì Arrivano i compromessi Che Non Voglio dire Le gare sono pesanti Ragazzi Devi fare le diete strette Per mesi 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 Senza sgarri Lo stile di vita sano E le gare Sono delle cose diverse Ma l'agonismo È estremo In tutti gli sport L'agonismo non è mai positivo Dal punto di vista Della salute E del benessere Come fai tu È perfetto Perché comunque Mangi bene Ti alleni Il corpo migliora Sì Poi io sono tre anni Raga Posso dire Da tre anni Perché comunque Nel 2018 Quando ho detto Ho perso peso Avevo iniziato a fare Tipo robe a corpo libero Qualcosa di crossfit Ma niente di Super Come ti sei trovato A fare crossfit Preferisco Pesistic Cioè preferisco Il bodybuilding Molto di più Non capisco perché I crossfitter Mi dicano che invece È noioso Al contrario Però Sono gusti perci Tu facevi quello In gruppo Facevo No Avevo un ragazzo Che mi faceva fare I circuiti Da solo Mi seguiva proprio Da solo Perché era un mio amico Lui fa questo Però Mi sono annoiato Dopo una certa Nonostante Tecnicamente È più attivo Ognuno deve trovare La quadra giusta Per se stesso Cioè non obbligatoriamente Uno deve fare I pesi Magari uno fa Sei mesi I pesi E Si accogge che Non gli piace Cambia sport L'importante È che ti alleni Sì per me Ad esempio Ultimamente Per me è la box Cioè io mi diverto Molto di più A fare box Rispetto ad allenarmi Molto di più Alla fine L'importante è rimanere attivi Alla fine della giornata Non importa cosa fai L'importante è rimanere attivi Sempre meglio di stare Sendo lì sul divano A fare tennis A fare tennis L'importante è muoverti Poi sicuramente Più massa muscolare Hai nel corpo Hai anche tanti benefici Quando inizi a superare I 40-50 anni Più muscolo hai Più il corpo Rimane in salute Quello Che diventi fragile Senza muscolo Quindi i pesi Sono importanti Anche sul cuore Secondo me Cuore più l'attività cardio Però Alla fine Quando fai gambe Io Si alzano i battiti Certo Arrivo a 145 Se fai dei circuiti In palestra Con i pesetti Già Il cuore Sai quanto arrivo in serata? Ah quando fai Io ho provato Anch'io A farlo A vedere In serata sul palco A quanto arrivi Vediamo se mi batti Io non ci volevo credere Ti dico solo Che mi ha scritto Una mia amica cardiologa Perché Arrabbiata No mi fa Occhio A quanto arrivi Io ti batto sicuro 205 Dai 195 Io sono arrivato a 190 Ma io quando Io perdo tipo 2-3 chili al giorno Quando vado ai festival Al giorno Se faccio un festival Tipo per 3 giorni Perdo tipo 6-7 chili Non lo so Infatti è pazzesca Non è il mio stile di vita Io perché 30.000 passi in serata Ma io forse Ho un elemento Pure in più Che è l'adrenalina Da palco Sì magari hai Perché comunque Hai migliaia di persone Uno stress Mentale Fisico Che ti consuma Salgo sul palco Ho il cuore in gola Non ci si abitua mai Penso a sta roba E quindi Hai battiti Super Adrenalina Infatti ho Eliminato la Red Bull Perché magari Addormentato In jet lag Mi bevo una Red Bull Prima di sedere sul palco Sai per essere un po' più attivo Ho rischiato di svenire sul palco Perché cioè 190 195 200 Sono Oltre i limiti superiori Diciamo Però questa è una cosa tua Penso no? No O a tutti i DJ No Questo non lo so Perché non tanti DJ Alla fine fanno comunque Che tu fai uno show Anche diciamo Sì Mi muovo tanto Comunque io brucio 600 700 800 calorie Durante una mia performance Quanto dura? È da un'ora Un'ora e mezza Cioè L'iWatch Che me lo dice Quindi Diamo un 5% di scarto Però sono abbastanza affidabili Come dispositivi Certo Certo Cosa che magari Quando faccio gambe Per dire che È uno dei Dallamenti più intensi A livello cardiaco Arrivo a 150 A me la box Mi ha fatto arrivare A 190 Eh ma È perché È diverso È diverso E tu sei grosso E anche quello Sono anche molto pesante Però io non riesco a capire Come fa Cioè saltando E agitando È l'adrenalina L'adrenalina Perché anche a me Mi succede Ai festival Quando tipo Partono magari Dei pezzi Che mi piacciono Così via Cioè l'adrenalina Proprio il cuore Che ti sale in gola Così via Adrenalina da stage È una droga Alla fine Ecco È la mia droga Ho trovato la mia droga L'adrenalina da palco Sicuramente Avrai i suoi effetti Passione Droga Esatto Esatto Però YouTube Ci censura il video Ciao YouTube Non si spaccia Ragazzi L'adrenalina Non si può spacciare Comunque volevo dirti Non so se lo sai Per ogni ospite C'è una sorpresa La sorpresa È una sfida finale Che facciamo Ad ogni ospite E c'è una classifica Nello schermo Che i nostri Utenti Possono vedere La sfida non è Braccio di ferro con Noah Tranquillo Mi stacca il braccio Ma a tua scelta Puoi scegliere Due esercizi Uno è Il Wall sit Non mi viene la parola Che è la seggiorina al muro Ok La statica Sono scarsissimo Con le gambe O i piegamenti Sulle braccia Scegli Uno tra i due E facciamo una classifica Tra tutti gli ospiti Ok Sei pronto? No Però Non me l'ero da dieci giorni Cosa scelgo? Cosa scelgo? Push up Push up Ok Dai Ci provo C'è rischio schiaffo Quanto è minimo? Quanto è venuto a fare? Minimo Tutte quelle che hai Ok dai Non deludere Vediamo se 3, 2, 1 Via 1 2 3 4 5 Respira 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 19 20 20 1 22 23 24 25 26 28 28 30 31 32 33 Espira No 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 49 49 49 49 e mezzo Buona Madonna Madonna Non faccio più sciarli Dabo Facci sentire Sei già più grosso Sei già più grosso Sì Non la paragono è vostro però Come sono andate sti piegamenti sulle braccia? Ah Io non faccio mai piegamenti Quanti ne abbiamo fatti? 49 E mezzo E mezzo Dai Concedimi il mezzo perché un po' su poi sono crollato 49 e un quarto A fine anno ci sarà un premio per il concorrente Intanto non vincerò mai 50 sono una serie 50 sono una serie Oddio però magari Oh Dieci anni fa Prima di iniziare tutto il suo percorso ne avrei fatte 8, 9, 10 Quindi Vedi 50 Io mi ricordo ancora A 40 anni non è male Io mi ricordo ancora del momento in cui non ne facevo una Per mesi non riuscivo a farne una perché non riuscivo a sollevare il mio peso sulle braccia Trazione Trazione non ne parliamo Ci ho messo anni prima che ho fatto la mia prima Eh se usavi 150 kg ci credo Pazzesco Mi ricordo che facevo tipo 5 piegamenti sulle ginocchia 5 o 3 All'inizio devi fare così è normale Cioè avevo letteralmente zero forza Zero Vedi Io lo sai c'era un periodo da ragazzino quando iniziarono a bullizzarmi E mi ero messo in testa che devo migliorare fisicamente ma non andavo in palestra Avevo iniziato facevo 100 piegamenti sulle braccia al giorno Le ho fatte per un anno Ti giuro Per un anno Però facevo le serie Facevo 10 e mi fermavo Un minuto 10 e mi fermavo 10 e mi fermavo Fino a quando arrivavo a 100 Però all'inizio avevo 15 anni Non le facevo Bene Quindi che cosa facevo Le facevo con i piedi per terra E le mani sopra il divano Quindi avevo un'inclinazione facile Poi piano piano Per terra E poi Dopo un po' con i piedi sopra il divano E le mani per terra Poi magari le prime serie le facevo così Difficili Dopo a mano a mano che ero stanco Le serie dopo Facevo quelle facilitate Quindi Partivo con i piedi sul divano Mani per terra Poi tutto per terra E poi le ultime serie Con le mani sul divano e i piedi per terra Ma in tutto ciò il bullo l'hai menato poi alla fine Quando sei diventato grosso o no? Poi che cosa è successo? Sono bocciato a scuola Il primo anno di prima superiore Ho cambiato scuola Quindi sei diventato tu il bullo poi E che cosa è successo? Dopo un annetto Al mare ho rincontrato tutti sti bulletti qua E tutti hanno iniziato a salutarmi Perché Perché sapevano che avevo cambiato scuola La scuola nuova dove andavo Era famosa per C'erano quelli un po' più delinquenti Ma che in realtà erano migliori di loro Come tipologia di persone Ero passato dall'ITI all'Ipsia Quindi dal liceo tecnico al liceo professionale Quindi questi qui che mi bullizzavano Che andavano al liceo tecnico Dicevano Cavolo lui è andato dal professionale Cioè quelli pazzi In realtà erano più tranquilli di loro E ho iniziato a salutarmi Poi ero già molto più grosso di loro Dopo un anno che mi allenavo E lì Io li ho snobbati Non li ho più salutati Finita lì Ho fatto bene Perché pure io ho avuto un'esperienza con i bulli Anzi sono stato bullizzato Uno di questi L'anno scorso Tutti i giorni Anch'io a 14-15 anni Quando avevo iniziato a fare il DJ Perché ne avevo parlato con questi miei amici Tra cui c'era sto bulletto del cazzo Che facevi il DJ? No Però sonavamo in banda Tutti quanti E ho espresso il mio desiderio Di voler diventare un DJ E di provare questa strada E lui mi disse Ma che cazzo Cioè Non ce la farai mai E io ad oggi Dopo A 15-25 anni Ma ti menavano anche? Eh A me sì Sì Cioè Ma non Non posso dire menare forte Però Era Sì Ed era tanto psicologica poi la roba Sì Però sai Ci penso ancora a sta roba Per il fatto che Quel ragazzo mi disse Non ce la farai mai È proprio quello che ti dà la forza Di andare avanti E io ad oggi penso Eh Il 27 luglio Suono al Tomorrow Ciao E io Mi prendevano in giro Perché ero troppo magro Rispetto a loro E quelli Si allenavano Giocavano a pallone A livelli un po' più alti E io inizio ad allenarmi Perché Percepivo che loro Fisicamente erano superiori a me E io dicevo È per questo che mi Che mi picchiano Perché loro sono superiori a me Quindi devo Diventare io superiori a loro Io superiori a loro Quindi a volte I bulli È brutto dirlo Ma ti danno La motivazione Di fare le cose Come nel tuo caso Come nel mio caso In certi casi Persone che magari Psicologicamente Non sono forti Vanno giù In certi casi Vai molto più su Sì Che è stato quello Magari che è successo È perché comunque È uno stimolo Cioè ovvio che Non è l'unico mezzo Il trauma Per migliorare Però Un vecchio saggio Diceva Beata Sofferenza Perché diventi Una persona più forte Su di me ha funzionato Brutto dirlo Su di me pure Anche su di te penso Ti prendevano in giro Sì 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 Io non tornerei mai Cioè rifarei tutto Quello che ho fatto Anche L'essere stato bullizzato Perché mi ha dato Quella roba in più È anche a me Anche a me Ho voluto dirlo Ma a me ha fatto bene Essere bullizzato Sì E ci penso In quegli anni lì Ho sofferto molto Però oggi dico Grazie Bullo Che mi hai picchiato Se non ero qua oggi Penso io Ci penso dopo 25 anni A sta roba Del tipo che mi disse Non riuscire a me A diventare un DJ Ancora oggi ci penso A me i professori Me lo dicevano A me i professori Mille volte mi hanno detto Asemota Non farei mai nulla Guardami ora L'apporto scuola Per me è stato Gli anni peggiori Di sera Che dovrebbe essere Il periodo migliore Invece sai Per me è stato Io se ripenso Alla scuola Di inferno Anche per me Le medie Sono tutte le peggiori Ma mio padre Ne parla sempre Di stare E poi I primi anni Delle superiori Io poi vengo Da una zona Piuttosto brutta Di Torino Non vengo Da una zona brutta Però è tra La zona bella E la zona brutta Andavo a scuola E veniva la gente brutta Ok Cioè arrivavamo in prima media Ed eravamo in classe Già di 16 anni Per farti capire Ok Mentre noi ne avevamo 12 13 Ok 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 Che facevano le bullette Ma bullismo serio Cioè a me mi hanno fatto Le peggio cose Mi hanno tenuto con la Uno mi teneva la mano L'altro mi bruciava Con la sigaretta Madonna Coltellino Secondo giorno di scuola Mi hanno afficcato Una penna in testa C'ho ancora qua C'ho ancora qua La cicatrice C'ho tutto Il pezzo di gonfio Io mi ricordo Che il secondo giorno Di scuola Mi hanno puntato Il coltellino Al collo Io vado agli elementari Per farti capire Appazzesca E sto ragazzo Che mi ha puntato Il coltellino Ora in carcere Tipo Era un micidio Allora Anche quello Che bullizzo a me So che Ora è tipo Tossico Dipendente Stato in galera Ne ha avute tantissime Una volta A me mi picchiarono Ero con una Ragazzina Fidanzatina Avevo 15 anni Nella pineta Del paese C'era comunque estate Tutti i ragazzi Una passeggiata E di fianco c'era la pineta Io camminavo con lei In questa pineta Perché si andava Sulla spiaggia A un certo punto Su una panchina In mezzo alla pineta Al buio La sera C'erano questi Che si fumavano Le canne Sulla panchina Mi hanno visto passà Questo bulletto Si è avvicinato a me Ha iniziato a picchiarmi Davanti a lei Porca miseria Io ero da solo Mezza pineta Al buio Metti a mezzanotte E questa che urlava Lasciatelo sta Lasciatelo sta E io non ho reagito Ho preso le botte Perché sapevo Che se reagivo Intervenivano anche Gli altri 4 o 5 Che erano sulla panchina E mi picchiavano Tutti insieme Perché loro avevano Il vizio di picchiare In gruppo le persone Oddio Allora io non ho reagito Così mi facevo picchiare Da uno solo E poi me ne andavo Sono fatto picchiare E sono andato via E questo È brutto dirlo Ma ora Ma guarda Mi sa che c'è stato Uno studio Ha avuto queste cose E lui Alla mia età Questo ragazzo I bulli Sono sempre quelli Che poi Nella vita Falliscono E i ragazzi Bullizzati Sono i nuovi ingegneri Aerospaziali I nuovi Credibili Ti dipende C'è chi non esce Dal limbo No C'è chi non esce E rimane per sempre È brutto dire Ma sfigato È certo E quasi dà ragione Ai bulli che lo bullizzavano E c'è chi invece Lo usa per fortificarsi C'è chi li ha secondi Ma mio padre È stato un preside Per una marea di anni E ho appena andato in pensione Da due anni A questa parte E lui ha sempre Lottato contro Questa tipologia Di cose Io penso C'è sempre stata C'è sempre stata Probabilmente Sempre ci sarà Però ora c'è molta più attenzione Rispetto a prima Perché io comunque sono Un classe 84 Ma per me non c'è stata zero attenzione Però se ne parla Almeno se ne parla È un po' come Dei problemi di psicologia Il bullismo Sono robe che comunque Sono uscite Recentemente Io mi sono preso bullismo Da professori Non sto scherzando Ma serio Sono dovuto intervenire I miei genitori E quello Quello è grave Per anni Per anni Per anni Per un anno intero Mi faceva le battute Sull'Africa Mi chiamava Passa al pesto Ma dato che sei arrivato In Italia Qual è il tuo piatto Di pasta preferito Io passa al pesto Tutto l'anno Mi ha chiamato Passa al pesto Tutto l'anno Passa al pesto Passa al pesto Io ho chiamato Mi continuava a fare le battutine Ho chiamato mia madre A tutto punto Ho detto mia madre Mia madre è andata A scuola A parlare Di smettere Lui entra in classe E fa Ah è venuta quella cicciona Di tua madre A dirmi di smettere Davanti a tutta la classe Che pezzo di merda Io La scuola La sono vissuta Veramente Veramente male Devastante L'anno che ho avuto La mia rivincita Diciamo L'anno più bella a scuola È stato quando ho cominciato Con YouTube E tipo Che dopo sei mesi di palestra Eri più grosso di me Che lui Dopo sei mesi Era più grosso di me Ma anche con YouTube Sono esploso Diciamo Abbastanza velocemente In pochissimi mesi E mi ricordo Che quell'estate Dopo che ho cominciato Con YouTube Sono andato a scuola C'era tipo La fila di persone Che voleva la foto Con me A scuola Quanti anni avevi Avevo 18 anni Che figata Dai Questi sono riscatti sociali Non potevo andare al bar Non potevo andare al bar Durante l'intervallo Perché se no mi ritrovavo Solo a fare foto Ho venuto in mano I professori in classe La classe seconda B La classe terza B Ti saluta Non so se incontri Il professore Ti chiamava Basta Io spero Non fai niente Ti fai una risata Io anche adesso A Torino Quando torno in zona Ne vedo alcuni Della gente Che mi prendeva in giro Ma loro guarda Fidati che ti conoscono Sì sì Ma tutti mi conoscono Tutti 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 mi conoscono in zona Anche perché comunque Sin da quando ho cominciato Con YouTube Come ho detto È stata abbastanza Veloce La scalata E tutti in zona mia Hanno iniziato a parlare Sei riconoscibile E si ricordano Quindi si ricordano Sei riconoscibile Penso 18 anni Eri già alto Sì sì È un po' meno Sono cresciuto Sai che dopo il dimagrimento Sono cresciuto un sacco Cioè in due anni Sono tipo Sono entrato in pubertà Dopo il dimagrimento io Ok Perché avevo tipo Secondo me Io avevo gli ormoni Strai impallati La gravità Sei dimagrito No ma non so scherzare Io avevo Tipo molla Perché perché Io avevo le tette Non so se ti chiede Sì sì Secondo me io avevo gli estrogeni Io avevo la vocina A 18 anni avevo ancora la vocina Ok Cioè mio fratello Aveva la voce più grossa della mia Dopo che sono dimagrito Letteralmente in un anno Sono cresciuto tipo per 5 Sono passato a sembrare un 18enne A sembrare un 40enne Guarda bene Adesso Sembra che sono più grandi di Gianmarlo Siamo più grandi di te Dio santo E te sembrano più vecchi di lui Incredibile Andiamo a fare i tour Giro In circonferenza Per circunnavigarti Ci vuole tipo Mezz'ora Comunque dai Possiamo Chiudere l'episodio Lotta contro il bullismo Siamo Molto contenti Di averti ospitato oggi Grazie a voi raga Ok ragazzi Allora Grazie mille Per averci seguito Anche in questo episodio Di Fit Cash Ringraziamo tantissimo Alex Grazie a voi raga Grande 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 49 push up Quindi per questo episodio E mezzo 49 e un quarto Insomma Per i prossimi episodi 49 e un quarto Saranno da battere Veramente Grazie grazie mille Mi raccomando ragazzi Grazie Gianmarco Ricordatevi di seguire Il nostro canale Instagram E anche iscrivervi A questo canale YouTube E attivare la campanellina Perché ogni settimana Uscirà un nuovo episodio Con un nuovo imprenditore Di qualunque settore Abbiamo avuto DJ Abbiamo avuto finanzieri La prossima volta Magari avremo astronauti Chi lo sa E niente Niente da dire Ciao a tutti E al prossimo episodio Grazie raga Ciao Ciao